sacerdoti ma anche uomini e donne che sono diventati santi tutti piemontesi sette persone che hanno passato la loro vita dedicandosi all'ascolto dei bisogni degli altri e trovando nella realtà ottocentesca in cui sono vissuti soluzioni pratiche alle necessità della gente opere durature che ancora oggi ci fanno ricordare i nomi di giuseppe cafasso don bosco leonardo murialdo giuseppe benedetto cottolengo giulia di barolo pier giorgio frassati e giacomo alberione lo spettacolo promosso dalla consulta dei giovani ha raccontato i risvolti attuali delle loro storie con le parole di chi oggi affronta gli stessi problemi